Fuori programma poco piacevole per una donna grigentina rimasta ferita a causa della caduta di un drone mentre era in corso il concerto della cantante Orietta Berti a San Leone, l'ido balneare a due passi da grigento. L'apparecchio era manovrato da un fotografo che stava effettuando le riprese dello spettacolo e cadendo ha colpito la donna che era seduta su una panchina. La donna è stata a soccorsi accompagnata in ospedale per essere medicata e sottoposta ad accertamenti che hanno escluso conseguenze serie.